Ha parlato al numeroso pubblico e ai tanti giovani presenti questa mattina al Polo Zanotto, sottolineando come da piccolo fosse stato inserito in azienda dal padre Enzo, partendo dalle mansioni più umili e da uno stipendio più basso rispetto ai colleghi pari grado. Piero Ferrari si è rivolto proprio ai ragazzi universitari che in questi anni stanno formando il loro sapere e stanno mettendo a fuoco i loro primi obiettivi professionali, spronandoli a credere nel futuro. I giovani hanno delle grandi opportunità, il mondo sta andando a grande velocità e sta cambiando. A parte i problemi del clima e ambientali ci sono tante possibilità di trovare una strada nelle nuove tecnologie e in questo mondo che si evolve. Tutto va veloce, se siamo bravi a cogliere l'attimo i giovani lo possono fare e sono in grado di farlo. Parla con cognizione di causa Ferrari, visto che fin dai tempi del padre l'azienda del Cavallino ha dato fiducia a tanti giovani che poi sono diventati straordinari tecnici e professionisti. Sì, la formazione e l'esperienza sono due cose importantissime. Noi l'abbiamo fatto da tanti anni, i giovani universitari che vengono a preparare la laurea in azienda è una di quelle attività che hanno sempre portato molti frutti sia per l'azienda che per i ragazzi stessi e quindi è bello avere i giovani che vengono e capiscono dove è e trovano la loro strada. Guardare al futuro era anche il consiglio di Enzo Ferrari di cui il figlio va più orgoglioso. Lui diceva il passato è solo esperienza, il presente lo viviamo ma tra un minuto è già passato possiamo fare qualcosa solo per il nostro futuro. Grazie a tutti